Questo è un momento speciale perché le cinque sezioni si sono riunite presso il nostro monumento delle otto aquile a rendere onore ai caduti. Penso che sia una cerimonia semplice ma molto significativa e molto sentita. Penso che sia una cerimonia semplice. Penso che sia una cerimonia semplice. Proprio sul simbolo sacro della Madonna di Monteberico, la Madonna ci guarda, ci protegge e in più abbiamo il nostro monumento. Questo è una cosa che ci fa veramente piacere, molto caro agli alpini, soprattutto i caduti e noi siamo qua per onorare e ricordare i nostri morti andati avanti, i nostri alpini andati avanti per far del bene a tutti gli alpini presenti. Grazie veramente a tutti e viva gli alpini!